Milano vince la prima europea in casa e l'NVP disegnato da coach Dan Peterson e Stefano Mancinelli. Stefano, una partita molto positiva la tua, soprattutto nel primo tempo, hai fatto i canestri decisivi che hanno portato al break Milano. Sì, è stata una partita buona, ma ringrazio il coach Dan Peterson, però è stata una partita di squadra, l'abbiamo vinta, perché abbiamo giocato bene oggi, abbiamo fatto girare la palla, abbiamo difeso e abbiamo vinto un punto di 20 punti, quindi ringrazio il coach per l'NVP, però merito della squadra. Senti, effettivamente rispetto alle altre partite vi siete share the ball, si dice in inglese, divisi di più il pallone fra di voi, tanti assist e un gioco finalmente fluido. Sì, sì, ma quello sicuramente oggi in attacco ci siamo passati appunto molto la palla, ma soprattutto secondo noi abbiamo difeso tanto, abbiamo fatto una rotazione difensive, infatti i risultati si sono visti, abbiamo vinto di 20. Senti, dal punto di vista delle gerarchie, adesso sei passato tu in quintetto o esce dalla panchina? Com'è questa dinamica all'interno dello spogliatoio? Ma partire dalla panchina o no è uguale, secondo me. Una volta parte Mike, una volta posso partire io, vabbè, adesso sto partendo io, perché forse Mike gioca meglio dalla panchina, ma non è un problema assolutamente, sia per me che per Mike o per altre persone, penso. Senti, credo che sia salito anche un po' il barometro dell'entusiasmo, queste cinque vittorie consecutive in campionato, questa vittoria importante in Eurolega, inizia un po' a crearsi poi la chimica giusta fra di voi? Sì, ora speriamo di continuare sicuramente, stiamo andando bene, abbiamo perso alcune partite un po' per colpa nostra, però sai, a Madrid abbiamo fatto una partita incredibile, abbiamo giocato per 38 minuti benissimo e alla fine abbiamo perso gli ultimi due minuti, abbiamo un po' lasciato andare, diciamo. Poteva vincere anche quella a Madrid, così forse la partita col Pro come era decisiva, invece secondo me adesso dobbiamo vincere sia col Pro che con Madrid.